Rilievi magnetici dall'alto, un elicottero ispeziona il territorio arianese, massima attenzione rivolta a Difesa Grande, Pustarza, Montaguto e al fiume Cervaro di recente interessato dalla straordinaria piena, monito di un supporto a forma di triangolo agganciato al velivolo, ha effettuato una serie di controlli in tutta la valle del Cervaro, tra le due discariche, valloni impervi e alcuni corsi d'acqua. A notarlo sono stati in tanti, sia da Riano Irpino che dai comuni limitrofi di Greci, Savignano, Montaguto, Montenone di Puglia, Panni, Zungoli, Villanova del Battista, Casalbore e Buonalbergo. Si tratterebbe di una serie di rilievi geofisici che stanno interessando non solo l'Irpinia, non collegati strettamente alle verifiche attuate in campagna dopo lo scandalo della terra dei fuochi. L'operazione di telerilevamento non ha coinvolto le forze dell'ordine, ma è curata direttamente dalla Protezione Civile Nazionale. Rilevamenti geofisici relativi ad alcuni parametri particolari, quali la conducibilità, suscettività magnetica, densità e concentrazione dell'elemento radioattivo mediante un magnetometro. Una terra, quella confine tra l'Arenese e la vicina Puglia, che negli anni ha subito il peso di continue emergenze. Nel vecchio sito di Pustarza, in modo particolare, sarebbero stati interrati bidoni sospetti all'inizio degli anni 90. A denunciarlo ai carabinieri di Montenone di Puglia era stato proprio un ex operaio. Una vicenda portata alla luce più volte da Giovanni Maraia, Ariano in movimento. La presenza dell'elicottero da due giorni ha destato notevole curiosità tra gli abitanti di Difesa Grande e Camporeale, i quali in modo particolare da anni chiedono garanzie sul loro futuro. Dopo aver subito il peso di due discariche nel raggio di pochi chilometri l'una dall'altra, fino a stuprare uno dei territori più belli dell'Irpinia, attività analoga, è interessato anche la Valle Caudina.